buongiorno bottego trekking stamattina si parte per la cenza di nando sono io e marte siamo in due gruppetto piccolo fatto da poco piuttosto a un certo livello e poi andiamo a fare un giretto da monte mario monte frate ma poi vi sappiamo dire che lo facciamo a vedere ciao ciao ed ecco alberto che si sta lanciando in un'arrampicata in solitaria che si chiamano il filo d'arianda o il vagabondo che sono due sentieri alternativi ci sarà il bivio il filo d'arianda partiti siamo sulla cenza di nando larghezza andiamo a fare pranzo a Questo non me lo ricordo, quei due là sì, ma no perché non mi ricordo, perché lì si chiude, lì è chiuso sicuramente, e secondo me poi lì si va, adesso te lo dico. No, ci si va, che sono io che sono un cagarone, ci sono gli appoggi per i piedi, qua se vai giù ti fai male, devi centrare qua, ti dai quelle banchette. Senza di Nando, vi arrivo da mezzogiorno, saluto a tutti, saluto a tutti, bravi! Usciti dal sentiero, dall'Accengia di Nando. Arrivati sani e salvi di Badolo, siamo andati all'Accengia di Nando, abbiamo fatto il giro su Montefrate, gran bel giro, per cui non vi ci porteremo mai perché è pericoloso. Abbiamo fondato la sezione Bottego Adventu, percorsi pericolosi per pochi, per cui dobbiamo dire alcune cose per quelli che sono stati a lavorare, e per Luca, alla prossima! Ciao, ciao, ciao!